Musica A solar panel producer Me ne viene in mente anche una L'operatore ecologico Magari avendo una laurea in agraria, non so La guardia forestale Aiaiaiaia In Italia onestamente siamo un disastro Che guardia caccia Agronomo forse Tutelatore della fauna In questo momento non lo so Operatore ecologico, che senso? Magari persone con lauree in ecologia Spazzino Biologo La guardia forestale dai Ingegnero ambientale Compliance, antiriciclaggio Non lo so, raccolta rifiuti e riciclaggio Responsabile dei parchi nazionali Niente, non lo so Lo spazzino Stefano, 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 via La guardia forestale Il biologo, non lo so, sparato La guida alpina Il problema che c'è in Italia è che è difficile poter al momento creare qualcosa senza dover passare da mille itere burocratici La guardia forestale L'alpinista Il giardiniere Riutilizzare le cose che sono già state gettate Non lo so Un bel agriturismo biologico con annesse tutte le stalle e coltivazioni del proprietario Che include percorsi agli ospiti, fa fare percorsi, fa partecipare all'allevamento, alla produzione come offerta nella struttura Non so se mi viene in mente A parte il ranger, non so prego Un installatore di pannelli fotovoltaici Impedire la caccia abusiva e cose del genere Un lavoro in risorto aperti comunque al mondo dell'ambiente Quindi, so, in posti ambientali ottimali La guardia ecologica Il selvicoltore L'ambientalista E' una domanda troppo difficile